Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con mia sorella, ciao! E voglio farti un effetto per il contest dell'assone della manica e dei altri 10 youtuber, quindi cominciamo. Allora, prendi pure il mazzo di carte, lo cercherò di toccarlo il meno possibile, vai pure, e comincia a distribuire le carte sul tavolo, una per volta dalla cima, e quando vuoi ti fermi, quando te la senti, io non voglio condizionarti, fai te. Ok, a posto? Se questo vuoi continuare puoi farlo, ok. Ti chiedo, prendi una carta, una carta che vuoi, prendila, ok, ricordatela, io mentre mi girerò non farmela vedere, quando mi giro tu la fai vedere in camera, ok, vai. Sei a posto? Ok, mette ancora il mazzo, dove vuoi, o sul tavolo, o quello disteso, o l'altro uguale. Dove era primo? No, mette nel punto di consiglio, se dove vuoi. Ok, chiudi, ok. Ok, prendi le carte e mescola. Ok, ok, vai pure, mescola, 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 in modo che io non possa sapere che carta è, giusto? Ok, adesso prendi pure il guombozzetto e mettilo sopra, o sotto, o uguale. Ok, voglio solo metterlo, ok, se si vede. Allora, adesso hai pescato questa carta, giusto? Ti chiedo di pensare a una carta completamente diversa. Ti faccio un esempio, ad esempio se la tua carta è rossa, ne pensi a una nera. Se la tua carta è nera, ne pensi a una rossa. Se un numero, pensi a una figura, se una figura, pensi a un numero. Ok? Hai pensata? Sì. Ok, prendi il mazzo in mano e vai a cercare questa carta pensata. Ok? Ovviamente non farmi la vedere. Tiro sulle carte così io non posso vederla. Quando l'hai presa, la metti lì sul tavolo. Ok? Sì. Bene, posa pure tutte le carte, non ci serviranno più. Allora, tu hai pescato una carta, giusto? L'hai messa in un punto qualsiasi. E, ok, l'hai messa in un punto qualsiasi, poi hai pensato a una carta completamente diversa. Giusto? Questa carta è di quadri, giusto? No? Allora è di cuori. È di cuore, è di cuore. Se è di cuore, allora avevi pescato il sette di fiore e questa carta è il gel di cuore. Gel di cuore, sette di fiore, giusto? Giusto. Spero che ti sia piaciuto, spero che vi sia piaciuto anche a voi. Ringrazio ancora l'assare la manica per aver dato la possibilità di partecipare a questo contest. Se volete, condividetelo con i vostri amici e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao! 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 Ciao!